Chi non vuole salvare la Tercas? Chi non vuole che una delle più grandi e importanti realtà bancarie del centro Italia resti a Bruzzese? Chi sta fingendo di non sentire l'assordante silenzio nel quale, nell'apparente rassegnazione di una classe politica mai così distratta, la cassa di risparmio della provincia di Teramo rischia di fare del nostro passato un futuro altrui? Sono ore decisive queste, ore nelle quali, tra l'ufficio più importante di Corso San Giorgio e la sede centrale di Banca Italia in via nazionale, si cerca di definire la geometria di un triangolo nel quale manca solo un ultimo angolo, quello che si chiude sulla scrivania del direttore generale del gruppo, che potrebbe farsi carico della sostanziosa ricapitalizzazione della Tercas. Ai colletti bianchi di via nazionale piace una figura geometrica che si chiuda magari in quel disondrio, casa madre di quel credito valtellinese che già detiene l'8% del capitale Tercas e che avrebbe, tra le poche in Italia, la forza di sostenere la ricapitalizzazione, ma sarebbe una figura geometrica che per sua natura mortificherebbe la storia della Tercas, che merita e pretende la geometria di un'altra soluzione. La soluzione perfetta è il quadrato, perché sono quattro gli angoli dell'altra strada possibile, quella che non farebbe della Tercas una nuova, ennesima sconfitta abruzzese, ma l'occasione di scrivere finalmente una nuova storia. Un quadrato che poggi gli angoli sulle quattro fondazioni bancarie abruzzesi, Tercas, Carichieti, Carispac e Cari Abruzzo, che avrebbero tutte insieme la forza non solo di ricapitalizzare, ma anche di fare della cassa di risparmio di Teramo il seme per la fioritura di quella grande banca regionale che l'Abruzzo da sempre teorizza, salvo poi lasciare che le teorie si dissolvano nell'ombra dei campanili. Questa però è l'occasione, questo è il momento, sono ore decisive queste. Scegliere quel quadrato significa scegliere di voler dare un futuro possibile non solo alla Tercas, ma all'intero tessuto economico di una regione che ha un vitale bisogno di una banca vera del territorio. Lasciare che altri scelgano il triangolo significa ancora una volta, l'ennesima, rinunciare a noi, fingere di non sapere che la Tercas diventerà, come fu per altre banche, solo l'insegna di una storia perduta e di una sconfitta collettiva, perché prima perderemo i centri decisionali, poi le centrali operative, quindi toccherà la riduzione inevitabile dei posti di lavoro. Nella scelta della strategia geometrica del futuro della Tercas, in fondo, si intuisce la tesi del vero, unico teorema da risolvere in questa regione. C'è ancora una classe politica che sta lavorando per noi?